Sono arrivati questa mattina al punto vaccinale Codma di Fano, poi si sono messi in fila muniti di mascherina ad aspettare il loro turno per farsi inoculare la prima dose di vaccino. Erano 70 i profughi in coda e sono stati prelevati da due pullman direttamente dai centri accoglienza di Pergola, Marotta e Cartoceto dopo il coordinamento avvenuto tra gli stessi. Poi una volta fatta la prima dose sono rientrati nelle loro strutture. Un'operazione durata a lungo dalle 9 e mezza di questa mattina fino alle 13 circa che si è svolta senza particolari intoppi, unico tra questi la lunga attesa che ha costretto qualche cittadino fanese non prenotato giunto sul posto con l'obiettivo di farsi inoculare il vaccino a cambiare punto. Qualcuno infatti vista la coda ha scelto direttamente di andare a farlo nel camper vaccinale mobile presente all'interno della fiera di San Bartolomeo attivo oggi dalle 18 alle 22. Una volta terminate le vaccinazioni dei 70 richiedenti asilo nel pomeriggio le operazioni sono riprese con altri 30 cittadini fanesi che avevano già effettuato la pronotazione al Codma.